Buonasera, 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 buonasera! Com'è? Com'è? Scusate, ho fatto partire il live train, ho fatto partire il pre-live un po' in ritardo, ma stavo facendo la cacca perché ho mangiato l'insalata, l'insalata mi fa fare la cacca. Grazie a Damish DP. Buonasera signor gatto, mi potrebbe dare la sua benedizione sui vari esami che dovrò dare? Tantissimi auguri a lei, tanti tanti. Leila e grazie. Bella Gio. L'insalata mi manda proprio a fare... Oggi mi vedete puzzolente, tra virgolette puzzolente. No, dai, l'odore non puzzo. E effettivamente io prima di puzzare ce ne passa, eh? Devo essere sincero, non puzzo in generale. Anche, cioè, ce ne passa prima che io inizi a puzzare. Comunque, mi vedete con la stessa maglietta addosso e perché volevo farmi la doccia oggi. E però ho montato tutto il D. Perché ho fatto... Ho finito il video, in realtà, che ho iniziato la settimana scorsa. Solo che l'ho finito... Ero a metà, ero a metà, oggi ho finito l'altra metà. Gabriel l'ha già visto. Grazie a The Stupid Chimp per i suoi dodici mesi, un anno insieme signor Gatto. Non l'avevo mai detto, ma mi ha conquistato, a quanto pare. Sono contento, sono contento. Ma perché non l'avresti mai detto? Scusa, che vuol dire? Non sono sexy? Comunque, non mi sono lavato perché ho veramente montato tutto il giorno. Alle sette e mezza faccio... Ah, ok, vado a farmi la doccia, vedo l'orario e dico no. E dico no. Non sono riuscito, quindi mi farò magari la doccia prima della nanna. Che è sempre bello farsi la doccia prima della nanna. Tra l'altro il video Gabriel l'ha visto. e mi ha dato anche un feedback positivo. Lo manderei volentieri i subscriber in anteprima, però non si può più fare. Perché a quanto pare Twitch ha disattivato temporaneamente le mail agli abbonati. A quanto pare c'era chi faceva della promozione per siti di un certo genere e quindi hanno deciso di toglierlo a tutti. Grazie, come sempre, per questa cosa. E quindi niente. Neanche volendo ve lo posso mandare. C'è il sito per i sub, ma c'è il video per i sub nel sito per i sub. Non riesco a imbeddare più di una roba, diventa tutto un casino. Eh, la doccia prima della nanna è bella, eh. Dopo la live di ieri su Facebook mi appaiono solo lavatrici e asciugatrici. Ma dare la mail attraverso sì? No, non si può. Non si può. Neh, non è semplice, Gabriel. In realtà lì accedo solamente per fare l'embed. Vabbè, va ben così. Oh, la roba più comoda che abbiamo. Adesso non è che mi voglio rompere le palle. Eh. Cribbio. Pornografia illegale. Perché esiste la pornografia illegale? Beh, sì, esiste la pornografia illegale. E effettivamente... Beh, è una roba terribile. Dai, lasciamo perdere. Non entriamo. Per l'amor di Dio. Ah, sì, esiste, esiste. Eh, scusatemi. Parlo prima di pensare. Sono un buono io. Penso troppo bene delle persone, purtroppo. Eh, oh, che dobbiamo fare. Non ne ho la minima idea, Q. Ma zero proprio. Mi è arrivata la mail, anzi, mi è arrivata la mail solo ed esclusivamente perché io, negli ultimi 30 giorni, mi pare un po' di più, qua dice, abbiamo notato che l'ultimo mese hai usato la funzione di time. Perché effettivamente è vero, vi avevo mandato un video in anteprima, ma era Last from Beyond. Solo un mese è passato? Beh, vabbè. Mastro! Sono appena entrato e sento pornografia illegale. Auguri a noi. Anche a lei, grazie. Ah, no, era il VR, vero? Vi ho mandato anche il VR. VR chat vi ho mandato. Ma che bravi che siete. Io oggi pomeriggio ho fatto una cosa incredibile. Posso solamente dire che in Italia eravamo in tre. Non vi posso dire cose, non vi posso dire neanche quando ve ne posso parlare. Quindi grazie mille a Frantic per i suoi 42 mesi. Visto che ci ricordiamo la sua surprise. Mi fa molto piacere. Io purtroppo non mi ricordo niente. Mai. Possiamo sapere che ero gli altri due? Certo che no. No. Non ho capito, Slulion. Che c'hai? Mica aveva bisogno di essere abbonati per scrivere in chat. Addirittura ripa. Sono contento, l'ho detto apposta. In realtà vi sto mettendo hype senza motivo. Perché non ho una data. Non ho nulla da... Da mandarvi da nessuna parte. E tutto lì. Voglio solamente tenervi sulle spine. Perché sono bastardo dentro. Gli educi quelli belli. Ho fatto una cosa ma non posso dire cosa. Ve lo dirò. Ma non so dire... No, no. So benissimo quando, eh. Non fraintendere. So benissimo quando ve lo posso dire. Non vi posso dire quando posso dirvelo. Tra l'altro, Gabriel conferma, mi hanno modificato solo una cosina nel placement di NordVPN che vedrete nel video di martedì prossimo. Ed è una scrittina. Per il resto gli è piaciuto. Per forza! Ho fatto un lavoro della madonna! Come ce n'hai le palle cubiche? Rinnovate, rinnovate, rinnovate. Sempre eccessivo il video più bello di sempre. Però dai, benino. L'unica cosa che ti chiedo, Gabriel, la musica si sentiva. Era alta, era bassa. Perché quella è la mia unica... incognita. Sono fenomeno. Hai ragione. Hai ragione, Ripa. Sono fenomeno. Tra l'altro, mi hanno dato la chiave di Days Gone su PC. a me era venuta questa malsana idea visto che qualcuno mi ha messo la pulce nell'orecchio e diceva guarda che su PC è il gioco più bello della vita. Madonna, mi sembra un po' eccessivo. E l'ho detto boh, magari la faccio come serie secondaria così a cazzo di domenica. Ho visto che dura 40 ore. No. No. Non ho voglia. Mai. Io mi ricordo le prime due ore ed erano una noia. Ma una noia. Porca miseria. Grazie Gallo Starto. Mannaggia a te la suspense. Ma le si vuole sempre bene, grazie. Vedrete che la suspense verrà ricompensata. Tra... Eh, non si sa quanto. Grazie Alex. Cena con la ragazza ma non ci si scorda della sub. Grazie mille per i suoi tre mesi. Grazie anche a Tano per la sub. 40 ore? Sì, sì. 40 ore di solo principale. Vedevo suonare un tubito. No. No. Noizzato oggi ed è noia. Eh, sì. Guarda che è palloso duro dei sgon. Cosa ti costano gli arti, eh? Scusami, hai ragione. Effettivamente il mio lavoro si basa su quello. Più mi annoio, più vi divertite. bella gatto. Novità sulla casa? No. Non so niente. Domani niente sabedì per me. No! Nessuna delle tre live ci sei? Ma per pacco. Grazie intanto. Grazie anche a Morgana. La saluto e le mando dell'affetto. O dell'affetto, se preferito. O dell'affettato. No, ho appena mangiato. Grazie. Sto a posto così. Days Gone noioso? Allora, io non l'ho giocato tutto perché l'ho mollato proprio perché mi sono scassato i coglioni. Poi, ribadisco, ognuno c'è i suoi gusti. Per me l'inizio di Days Gone è eccessivamente lento. Sono disposto ad accettare la lentezza di un gioco così se il capitolo precedente mi è piaciuto veramente tanto. Non mi ricordo poi perché all'epoca l'ho giocato al Day One mi sono sfrantumato le palle e poi dopo l'ho mollato proprio. È strano perché di solito le esclusive le porto a termine. C'era sicuramente qualcos'altro in epoca Days Gone però mi ha proprio rotto le balle non l'ho più toccato. Ink! Sono quattro mesi di amore. Grazie. No, vabbè. Allora, Red Dead Redemption 2 è un caso a parte. Red Dead Redemption 2 l'ho mollato a malincuore piangendo perché sono sicuro che sarebbe stato un gioco che avrei amato alla follia. Però troppo troppo non ho il tempo purtroppo per dedicarmi a un titolo così lì lì proprio è stata una scelta a malincuore per quanto riguarda Red Dead Redemption 2 l'ho ripartito l'ho ricominciato tre volte ci ho provato tre volte Red Dead Redemption 2 tra l'altro non so se voi l'avete giocato su su una tv ben bene loro su serie non serie 6 su Xbox One X in tv con l'HDR era una roba di una meraviglia incredibile ma veramente bello Kingdom Come Stefano è in pausa per il semplice fatto che abbiamo altro che esce adesso di più importante ragazzi Hypetrain rinnovate 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 intanto via il gioco non ho abbandonato l'idea di Kingdom Come abbiamo altro semplicemente Red Dead Redemption 2 è finito in 60-70 ore è un gioco molto bello ma infatti ma sono sicuro è bellissimo solo che 60-70 ore sono veramente tante ma veramente tante per uno che gioca un'ora quando va bene la sera perché io mi metto sul divano e gioco adesso sto giocando a Skyrim considerate che quando è che ho cominciato Skyrim perché l'avevo detto in live parecchio tempo fa ho cominciato Skyrim sono a livello 24 per dire no a Pasqua no a Pasqua è è Gabriel giocando un'ora la sera quando capita come faccio guardate che tutti i giochi main li gioco qui quando non sto giocando quando sono qui o gioco per livellare come ho fatto per Sea of Thieves come sto facendo per Lumberjack oppure registro video oppure monto video ma io gioco un'oretta la sera per i cazzi miei in divano Alec 39 mesi buonasera grazie mille è quello il problema per relax ti metti solo un'ora giocare eh allora certo finisco la live alle 10 bom porto fuori Sif dalle 10 e le 11 gioco giochiamo con la mia signora dalle 11 e le 11 e mezza preferisco non giocare ma guardare film o serie tv qualcosa perché se stacco dopo aver appena smesso di giocare non dormo benissimo quindi dalle 10 alle 11 gioco dalle 11 alle 11 e mezza guardiamo qualcosa e poi andiamo a dormire grazie a Heatgold per i 55 ho sbagliato i 55 mesi grazie no Friday e giriamo di qua e grazie anche a Muffnik per i 9 mesi salve salve a lei e grazie non ce la farei mai portare fuori il cane alle 22 e 30 adesso ragazzi non partiamo con il solito elenco di giochi hai giocato questo hai giocato quello cosa ne pensi di questo cosa ne pensi di quello vi ho raccontato quello che faccio la sera cosa gioco fine non c'è bisogno di perché sennò diventa la solita roba del mi chiedi domande rispondo mi chiedi rispondo mi chiedi rispondo diventa non diventa un discorso ma una sequela di domande random tutto vuoto il negozio si però vedi che anche il mio portafogli è vuoto effettivamente quindi eh magari in cassa c'è roba eh no ho tanto però vado a prendere un po' di prodotti va là grazie a Gabri per i sei mesi e i termos per il loro ride bellissimo il più bel ride che abbia mai visto grazie mia mamma porta il cane alle due di notte madò ah ok se sta male però vabbè se sta male anche io mi sono alzato per si fetone portarlo fuori perché perché stava poco bene quello è un altro discorso però e io porto fuori alle dieci dieci e mezza poi anche undici dipende da che ora ci svegliamo porto giù alle dieci e poi la mattina alle sette e mezza eh kill pensa la seconda parte era molto più spettacolare purtroppo si è bagato tutto purtroppo cosa compriamo e vediamo adesso cosa ci offre eh ne perdonami sì scusami l'ho persa buonasera bellissimo gattone volevo augurare una bella serata e volevo chiederle anche una benedizione per il colloquio lavorativo importantissimo fatto stamattina tantissimi auguri a auguri a auguri a lei e grazie perdonami me l'ero proprio perso chiacchierando questo dieci euro di più è il cambio dieci dollari dieci dollari è un buon prezzo di differenza damian sei mesi la sub è sempre dovuta ora è per sempre la si recupera sempre però non si lascia mai ah grazie che senso shoot head prezzo alto 58 ah vedi ad esempio questo non vale la pena perché fa 59 e 58 devo trovare prezzi convenienti vediamo ecco questo no questo no 95 104 però prezzo ah no pago di più no hai ragione non va bene prezzo alto 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 buon prezzo qui si guadagna un 7 dollari qui si guadagna un 5 dollari qui si guadagnano 2 dai puntiamo sul 7 dollari il prezzo normale è quello a cui lei rivende i prodotti credo di sì almeno è così che sto pensando deve essere bello avere un cane beh allora è bello avere un cane 15 dollari qui c'è un bel rincaro però dovrei averneggiati qui così lì qui oh qui 15 dollari buono è molto bello avere il cane sono contentissimo gli voglio un bene dell'anima però è un grande impegno quasi come avere un figlio solo che il figlio ha una certa cresce e capisci anche che deve smetterla di caccare per strada 37 45 mmm 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 madonna 59 75 questo è buono questo è buono lato al cioccolato dolce un po' salato io caccavo di strada da piccolo si tutti i giorni oh è un impegno avere il cane normale ci sta il cane non cerca di mettersi le matite negli occhi beh vabbè neanche aspetta mi devo abbassare un attimino qua neanche il bambino quando supera i 5 anni ho fatto ho fatto Ludovico ho abbassato ho abbassato so quanto vi piace vedere che cosa stiamo vendendo mai pensato di prendere un gatto beh non no non io personalmente almeno si ma per 5 anni agli incubi eh però il cane quello è e quello rimane per sempre latte buonasera gatto un grande abbraccio mi raccomando guardi che il latte non sia acido prima di comprarlo c'ha il caglio dici nego caglio che ha fatto parte dei via verdi di contro il cane ti vorrà bene per sempre il figlio no dici beh dipende se lo tiri su bene il figlio ti vuole bene per sempre dai meglio un cane che un bambino la madonna come tutti incazzati stasera scusami latte al cioccolato ah no latte che cazzo è il latte una latte ma non era in frigo questo questo è il latte al cioccolato frigo interno ma che roba cazzo è sta roba milky chocolate oh vabbè era fuori era fuori il maschile della latta ma anche secondo me però non so ah dici che è cioccolato al latte perché è milky chocolate avete ragione avete ragione e quando avete ragione avete ragione non c'ho nulla da dire ok quindi se noi adesso prendiamo prodotti che effettivamente sono convenienti ed ecco sostenibili noi guadagniamo meglio lewe n minore di 3 o forse no grazie tipo chobar non lo so ah sì mi ricordo ecco possiamo parlare del rating del negozio allora sì però ci arriviamo voglio dire noi adesso abbiamo il problema del rating perché non abbiamo abbastanza prodotti però non abbiamo abbastanza prodotti perché abbiamo un guadagno misero se io adesso sto più attento alla differenza di prezzo da quello che compro a quello a quello a cui lo vendo posso iniziare ad avere un guadagno maggiore e iniziare a comprare più prodotti diversificare e migliorare anche il rating del negozio vedi mi fa molto piacere just shine no non posso impostare i prezzi quello lì credo che sia fatto apposta proprio per per impedire di cittare o cose del genere c'è un mercato e tu devi seguire questo mercato io intanto vi ricordo di rinnovare 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 perché domani è il sub day quindi rinnovatevi prendete avanti che domani è domani e oggi è oggi e oggi non è domani per ora allora volevo comprare della carne ma mi sa che non ce la possiamo permettere quindi torno di nuovo al jabber domani il sub day si duck 24 mesi salve gattone le si vuole bene a lei duck grazie mille domani mi arriva una spedizione gigante di luci per la casa madò pensate ho ordinato 6 7 8 9 luci da vari siti differenti e non ho neancora fatto tutto ho speso una quantità di soldi infinita porca di quella più tene cosa ci fa sabdi allora domani mattina subnautica perché siamo in una situazione super golosa voglio vedere come va avanti domani pomeriggio vi aro il culo su coso 5546 buono landuil qua vi aro il culo su wargroove domani a me è piccolino wallanduil ah ok e domani sera giochiamo assieme a fall guys troppo poco negoziante buono il prezzo del latte love god 17 mesi grazie no così che hai fatto parte della verde ok 78 e 95 anche questo è buono anche questo è buono non so che cosa sia ma è buono va in frigo allora questa è roba da frigo ok roba da frigo tutta anche landuil andava in frigo ok no 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 151 170 anche questo è buono oh no non ho più soldini eh no tutta sta roba costa troppo prezzo alto eh sì 40 45 55 52 8 si guadagna buon prezzo è prezzo di costo non ci avevo mai fatto caso ai prezzi effettivamente stavo sbagliando su tutta la linea cazzo questo è buono però non me lo posso permettere sì ma mi ritolgo 5 da qua aspetta te li prendo ecco qua poi adesso rimpolpo io il pagamento del coso sì sì ho prelevato 5 euro che sono dollari prove vicarious 27 mezzi grazie sì sì adesso ritiro in cassa tanto no non voglio rimettermi i debiti mi mi sto regolando bene senza chiedere prestiti alla banca per ora anche perché ce la gestiamo un po' meglio riusciamo ad avere meno spese mettere un altro piano di scatolone di bagagliaio credo di sì però non non ho ben ho paura che si baghi e di perdere la roba quindi preferisco di no cos'è questi panoloni sì aspetta un attimo che magari li mettiamo in alto ok eccoci qua belli lì i big per i bimbi grandi di 80 anni non ho gelato la vaniglia e fatene una ragione mamma mia mica la gelateria è questa ok perfetto business della baguette come sta andando non abbiamo baguette ok c'è una tm qua devo andare fin in banca che coglioni devo andare fino in banca ne depositiamo un 105 no scusami un 55 boh a posto così siamo tranquilli anch'io mi crogiolavo nell'ignoranza del non sapere l'anduille è una salsiccia di trippa e andava in frigo sì io penso fosse l'anduille invece non è l'anduille ok la mangerei ah non sono mai andato matto per le trippe devo essere sincero è un piatto tipico tra l'altro ma proprio non è una roba che guardandola ho deciso che non l'avrei mai infilata in bocca e quindi non so che dire oh no non mi dire no ok è tutto lì lei non ha mai comprato l'anduille e i suoi avventuri sembra che ne vadano matti e infatti adesso stiamo cercando di recuperare cosa che c'è qua dentro il succo d'arancia andava in frigo sembra una roba da frigo vero ma perché c'è una mucca sul succo d'arancia è una mucca holy cow eh sì ah sì va messo in frigo cosa c'entra con l'arancia mi sfugge qualcosa dici che la ditta la ditta fa fa liquidi di vario genere e quindi ci mette la mucca è latte all'arancia angosciante sarebbe una roba molto strana però sarebbe molto pratico per la mattina di solito ti fai non so una spremuta cos'è? anche questo va in frigo la mattina ti fai una spremuta d'arancia ti bevi un latte e così risparmi fai tutto prima sempre della holy cow e grazie a mare per i suoi 12 mesi con lei non sono abbastanza le si vuole bene altrettanto grazie mille le mucche arancioni fanno questo tipo di assissima sembrava anche a me di aver letto un articolo a riguardo grazie a sumo per i suoi 22 mesi la latta anciata eh si ok yogurt da bere ah si no beh non è vero mi sembra proprio yogurt yogurt quello poi vengo qua e spendo tutti i miei soldi in cibo è che non mi dici ah si noi stavamo puntando al secondo cassiere giusto aspettiamo vediamo un po' come evolve è vero alcuni americani hanno fatto un sondaggio e pensavano che il latte al cioccolato venisse dalle mucche marroni non è una cazzata è vero non solo pensavano anche che l'Europa fosse il Sud America o che l'America fosse in Europa insomma hanno fatto svariati sondaggi in America e non è venuta fuori una roba bella no non è che sono stupidi sono ignoranti è diverso e ve lo dice uno che in geografia fa cacare però almeno so come è fatto il planisfero quello si cioè i continenti so tutti dove sono poi dopo per il resto insomma ho dei limiti meno male allora stiamo guadagnando perché 17 dollari espresso machine cioè questa qua mi fa guadagnare 17 dollari a botta ma noi dobbiamo investire di più in queste cazzate qua molto di più perché sono soldi senza costi 6.50 per il banco dei panini fatta banco dei panini 6.50 fatta praticamente già investito investito no child de che panini panini ma no come sulla collocazione dell'Europa ok cioè cosa vuol dire non sai come è strutturato il pianeta tanto ho visto un film carino che si chiama Estraneo a Bordo ci ho messo tre serie per vederlo però l'ho visto ve lo consiglio è su Netflix è molto carino se siete dei fisici dovete mandar giù un paio di cose perché alcune cose della fisica sono un po' così sono un po' così dicono funziona così e te lo devi far andare bene Pietro buonasera ragazzo sono solo due ma la seguo da tanto mi mancano i tempi in cui si cantava zucchero insieme beh vabbè sono passati due mesi non è orche miseria grazie no no non per le tempeste solari si parla proprio di come hanno strutturato la gravità vabbè non è non è spoiler questo qui dicono praticamente che hanno creato la gravità artificiale tutto quello che si lega poi al concetto di gravità artificiale diciamo che è un po' così torno indietro a piedi che così non spieghiamo benzina devo liberare la vescica hai ragione torno a casa e piscio grazie a alla smirid congratulazioni va bene quando parte vada Giorgio non ci lascerà in questa città volevo festeggiare con te la patente presa non è mai troppo tardi anche a 36 anni la si segue quando si può insieme al signor Karim grazie per la sua compagnia grazie a me grazie a me grazie a lei alas piscio la mattina che dura di più non corro non so perché forse perché ho troppa urina è possibile che uno non corre perché ha troppa urina secondo me sì no non ho fame ho 33 di fame secondo me ci scappa la pipì e non solo a me succede il contrario ma grazie a Ludacian per i 45 mesi a me di solito quando sono al photo finish quando so che sto per sedermi è finita praticamente c'è il rischio è lì ma perché è normale perché il corpo sa che sei arrivato a casa sa che sei arrivato all'obiettivo e dice ok mi libero e non ti devi liberare in quel momento però un vicino negozio sì è possibile però costa ah dici quello che ho a casa di portarmelo in negozio ma beh dai poco eleganti insomma sporcizia uno guarda mi rifaccio una doccia posto guarda che pisciata lunga anche il letto a questo punto te scherzi ma io la sera mi sdraio a letto parto faccio vedere giù di faccia sul cuscino dormo sono giorni pesanti devo dire però appaganti perché comunque sto facendo tante belle cosine i video stanno venendo bene le live mi stanno piacendo molto sono contento arrivo stanco morto la sera adesso col discorso casa ovviamente è tutto molto più pesante però io non vedo l'ora che sta casa me la diano e va a fanculo a tutti perché poi una volta che ho sta benedetta a casa sarò molto più tranquillo pure voi a fanculo tutti tutti smetto di lavorare così non mi posso più permettere di pagare la casa e mi sfrattano no spering cioè dovrebbe essere fine giugno ma ancora non si sa rurzark grazie per i 15 mesi però sono veramente veramente stanco e aspettiamo dai vediamo di vendere un po' di prodotti voglio arrivare a questi benedetti 6,50 150 dollari le bollette però non so ogni quanti giorni non ne ho sulla carta effettivamente dici che arriva grazie a Dave per i 4 mesi perché questo è il problema del gioco io non so quando arrivano le cose da pagare questa è una mappa non c'entra niente grazie a Dave per i 4 mesi e Sora per i 18 auguri non posso non posso farlo io secondo Cassi o posso posso no io ritiro solo il cash grazie a Free per la sub cos'è il trading company esattamente quello che credi una compagnia di trading l'ho fatto vedere anche nel video tu vai investi dei soldi ecco qua abbiamo pagato il negoziante no Nemesis non più no non non si possono assumere scaffalisti o meglio qua qua parla di secondo cassiere e poi la fattoria e il secondo piano non parla di cioè poi non so se il secondo cassiere fa altro ma secondo me sta qua a vendere per me il secondo cassiere semplicemente velocizza gli introiti c'è molto fiscale posso rinnovare tra 14 minuti aspetto aspetto anche perché altrimenti il gioco diventerebbe noioso no diventerebbe un gestionale non ci vedo nulla di noioso sì per lo scaffalista servirebbe un IA decente ma in realtà al di là dell'IA basta semplicemente che gli oggetti vengano messi randomicamente impilati per bene non è che non serve neanche mettere fisicamente nomino scusatemi tanto che prende l'oggetto lo sposta e lo poggia se devi prendere il negozio tu magari con 5 scassali non fai altro no però potrei andare magari a comprare altri prodotti ci siamo quasi dai che tra poco il paninaro seppure di soldi non andare per i panini no panini panini voglio investire nel panino Laira buonasera buon mesi versato se vuole bene altrettanto grazie e dai stasera l'ora videoludica è in pericolo no no ma infatti non ho giocato neanche ieri sera Skyrim infatti abbiamo finito il film e ieri infatti ieri ero molto più cotto di oggi mi avete visto che ero un po' più più stanchino ieri alle 11 sono andato a letto poi bastardi stamattina è mercoledì c'è la carta oggi ok sti figli di puttana non dovevano proprio passare la mattina bastardi bastardi che di solito è solo lunedì che mi rovinano che passano a prendere la plastica è anche il mercoledì adesso di solito passiamo di pomeriggio bastardi l'hanno fatto apposta secondo me l'hanno fatto apposta perché l'ho detto in live l'ho detto in live cos'era ieri fanno il loro lavoro lo so ma infatti mi dispiace perché non è non decidono loro però sono triste ha sempre fuori il paninaro ha così una piastrina uno arriva si fa vabbè quindi sono stato svegliato sia lunedì che mercoledì guardalo guardalo si fa il caffè è norma non credo proprio tu non metti giù quello che devi buttare la sera prima sicu adesso ti prego dimmi che non hai capito che io vengo svegliato dal neturbino alle 5 del mattino per portargli fisicamente l'immondizia alle 5 del mattino ti prego dimmi che non hai capito questo il camion dell'immondizia fa un casino della madonna perché fa tutte le case del circondario e si sente non solo il motore che fa parecchio casino ma quando mette la retromarcia fa altrettanto casino anzi fa molto più casino fa pi 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 ma ne ho parlato ieri ne ho parlato cos'è l'altro ieri no forse lunedì ne ho parlato probabilmente perché lunedì è proprio il giorno in cui so che non dormo quanto casino fa quando riparte si si fa casino quando arriva fa casino quando fa la retro fa casino quando riparte pensate ai tappi vabbè ma non serve cioè generalmente non ne ho bisogno non non ho bisogno dei tappi però cazzo ci sono un paio di anche perché so che lunedì mattina va bene mi ha inculato perché il mercoledì di solito non passano il mattino presto oggi si vede che pioveva o quant'altro sono passati prima non capisco il motivo della retro e vabbè doveva fare manovre in che senso no 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 lo sono leggero o meglio da quando è arrivato si fetone si ce l'ha un po' più leggero però che cosa è successo non lo so ha fresciato il gioco o non ho capito come mai vabbè non lo so non lo so che poi per me è proprio peggio svegliarmi e rimettermi a dormire c'è anche da dire che mi sveglio e riprendo sonno molto alla svelta sono sono molto fortunato sotto questo punto di vista però il camion visto che deve farsi tutto il quartiere sta parecchio e un'oretta me la fa perdere ancora è di successo perché grazie al pazzo su twitch per i 32 mesi strano si flash è come se si t'abbasse il gioco per un istante la pioggia credo sia solo estetica però non saprei dirti ad ora non ho non ho visto nessuna modifica grazie a nichiglitch per i 21 mesi finestra senza bordi non credo abbia quel tipo di opzioni il gioco 144 hertz ho tolto il v-sync per sicurezza l'f-o-v è lì no no ok ok ah la pioggia è enabled posso enablarla e disablearla allora figa buono questo 111 contro un 130 qui c'è un rincaro importante vai 4780 buono anche questo 5390 mi sa che quello per cani noi non lo abbiamo però quello per i gatti ancora si prendo quello per cani non posso mi prendo i soldi del nostro coso mi dispiace per il nostro negoziante ma cazzi suoi così impara è un cane un gatto molto triste confermo e via verso nuove mirabolanti avventure così impara a far parte dei via verdi e anche ai baffi ok verso noi mirabolanti perché mi distraete mentre guido voi lo fate apposta voi lo fate apposta perché dopo mi piediate per il culo hai visto non sai guidare no no io guido da dio siete voi che scrivete in chat cosa scrivete in chat a fare eh eh piripipipi eh vedi che c'avevo ancora quello per gatti cosa piripipate ma perché ho tutto dentro la coperta poi questo povero carlino mi sta simpatici i carlini ho proprio la faccia ma non vorrei mai un carlino però se ne incontro uno per strada mi sta simpatico a meno che non cerchi di mordermi quella è un'altra questione però in generale ah i carlini sono carlini e tu che leggi la guida se non mi scrivi non leggo Ale quattro mesi buonasera gatto e siamo a quattro con i giorni mancanti del mio compleanno più o meno buona continuazione altrettanto e grazie sono delle creature i cani? beh si anche noi siamo delle creature bello dire creature mi piace è proprio un bel modo di viverla droghe si però alla fragola la musica che mette quando ci lascia per due minuti dove la se può reperire sul mio canale youtube silver oppure dici negoziante che ha fatto parte devi avere se intendi questa invece la puoi reperire su radio dj passata di pomodoro eh si depositiamo questo cinquantello porca puttana ogni volta guarda mina albero no q penso che se facessero una spesa vera non faresti mai in tempo a restoccare no è vero molto vero ma ancora nessun panino? guarda qua che basta gamma non credo che sia norma niente ma soprattutto nulla è attaccato alla corrente credo sia proprio tutto illegale questo arancia bella sei mesi grazie come? ah si mi ricordo effettivamente il panino lo devono portare loro perché quello lì serve a scaldarlo il panino grazie Space Cowboy buonasera gattone grazie per la compagnia come sempre grazie 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 ah si mi ricordo ed ovviamente tutto sotto la pioggia certo doppia piripim piripim ecco vuol dire che abbiamo venduto riso lattaccio no ecco abbiamo venduto lo scaffale i panini 21 dollari eh ce l'avevo visto bene è un buon guadagno dai buono il panino posso mettere di piovere? no mi vado in un angolo a controllare cassiere o magari il panino devo coprire da te no 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 è proprio magico come funziona è impossibile salire di livello eh bisogna riuscire ad avere un introi totale da poterti permettere qualunque tipo di prodotto è molto difficile mi rendo conto che è molto difficile essere di livello hanno tutti i voli di gelato alla vaniglia è vero quello ci viene richiesto spesso in hype per le 3 ma guarda ti dico sinceramente non granché cazzo c'è da aspettarsi alle 3 di roba nuova forse Microsoft alle 3 ci parla della nuova IP forse forse sempre Microsoft ci parla anche un po' dell'IP che ha presentato a ottobre e ci fa vedere un po' di carne al fuoco quello non mi dispiacerebbe eh cazzo sarebbe ora effettivamente quello vorrei proprio vederlo affanculo ma che è Elder Ring è incredibile come ogni volta che si parla di 3 tutti sono fissati su Elder Ring ma scusatemi e quella roba medievale con i draghi che ha presentato Microsoft non vi sta ipando a botta quella roba lì o coso Starfield cioè tutti Elder Ring sempre fissati solo Elder Ring non esiste altro eh ma miseria anche voi argomentate qualcosina di nuovo Beyond the Gun of the Evil 2 esatto vedi un altro titolo assolutamente interessante probabilmente abbandonato ma questo è un altro discorso 87 775 no no non si sa eh non si sa su 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 coso e anche Silksong niente solo Elder Ring e Silksong tutti fissati con ste due robe c'è una vasta gamba di videogames sapete gelato a vanina mi ha detto è costato troppo quanto? ma è una follia il pane quanto viene una baguette 54? no non vale la pena 28 25 no 54 65 è quello questo eh Beyond era molto cioè è un progetto molto ambizioso molto 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 ambizioso però non ne hanno veramente mai più parlato eh mai più cioè paradossalmente Ubisoft ha parlato molto di più di Skull & Bones che continuano a rinviare adesso il nuovo rinvio è al prossimo anno fiscale quindi 2022 2023 Beyond Goon & Evil lo hanno presentato hanno aperto il sito dove la gente poteva mandare il curriculum insomma per lavorare sul gioco o aggiungere gli asset e non hanno più detto niente niente non puoi non puoi parare con il signor Ubisoft e dirgli che vuoi più pirati sì ma glielo dico solo che giustamente il signor Ubisoft a parte il fatto che sa delle cose non mi può dire tutto ogni tanto si scuce però non vi posso dire quello che mi dice quindi è tutto inutile per quanto riguarda determinate cose però sono robe che non sa neanche lui anzi neanche loro perché in realtà il signor Ubisoft è sia un signore ma anche delle signore c'è una vasta gamma di personaggi Ubisoft con la quale ho a che fare ma non vi posso far sapere di più mistero si infittisce e qui la situazione cambia tra l'altro sempre sempre in ambito Ubisoft per per loro adesso non so se ancora ma credo di sì ho trovato una firma storica in Ubisoft grazie Jaco per i 40 mesi Gabriel tu che sei magari un po' più che ti ricordi più le firme se ti dico toso ti piace il gioco di sopracciglia sono sono finite le orcioline eh sì è notte ah ok no toso una firma storica di wind wind se lo ricorda è quel toso quel toso lì è quel toso lì e lui l'ho l'ho visto lì che eravamo cos'era The Division 2 sì The Division 2 Parigi grazie a John per la sub dai c'è firme incredibili questa è casa mia entri la macchina è lasciata senza oh vabbè domani domani sistemiamo non è che vanno a male le robe in frigo vero? no 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 che vedo però oddio oddio ho sentito un altro bang shop open se il frigo rimane chiuso no eh non c'era il frigo cioè non è chiudibile il frigo succo d'arancia sold ok quindi vuol dire che se l'han venduto vuol dire che qualcuno l'ha comprato no no candeggina sì sì un attimo la macchina torna a casa da sola la sera sì è per questo che per risparmiare benzina faccio fermi un attimo 150 150 150 ma che scomodità infinita boom dai fai boom a posto a posto a posto a posto ok ok tranquilli 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 l'handuil qua mica è andata a rubare abbiamo veduto i due tre uff mi ha smesso anche di piovere esatto insomma un po' piovere per sempre ma ogni quanti giorni è che parte poi dopo la bolletta della luce qua che non ho mica capito no frigo 1 non dice niente a riguardo salva i prodotti che richiedono un frigo li salva proprio sì sì li tiene lì queste patatine hanno anche la loro età ormai che se è ora che qualcuno le compri mettiamole un po' così in mostra ai gnegnis 39 mesi grazie un tavolo buono un'anima 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 Grazie a tutti Omissione di soccorso Chi c'era dentro scusami Vediamo Alto Buon prezzo 21 È così buono Alto 98 98 25 Questo è un buon prezzo No 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 direi assolutamente no Sai che c'è Ma io me ne compro una Ma chi mi impedisce di ricomprare la stessa cosa Sì Poi dopo hai poca varietà Ma anche sti cazzi Va bene Intanto ho risparmiato due volte No Qui non c'è Un guadagno Praticamente 3 dollari Assurdo Prezzi assurdi I cetrioli costavano troppo Potrei tenere uno scatolone in più in magazzino In che senso? Nel senso che non li metto in mostra Li tengo da parte? No vabbè ma metto tutto Tanto che cazzo me ne frega Non è che va male Dovrebbe ma non lo fa Ecco qua Guarda che i peperoni La frutta in generale Andrebbe messa alla cassa Perché Che fa? Che si mette in mezzo sto stronzo? Via Perché la gente compra Quello batterie La mette per la barba E Verdura Quando arriva in cassa Io lo faccio sempre Ma che cazzo Tanto non so se voi Siete mai stati in un Lidl Lì sono magici Perché praticamente Tu metti La verdura Nel sacchettino Ma non pesi il sacchettino Te lo pesa la cassa direttamente Ma quella lì è magia nera Cos'è che ogni volta Devo stare lì? Che numero è? Che numero è? Lo devo andare a mettere? E quando invece Lo fa direttamente il cassiere Scusami Che poi a Lidl Sono al telefono i cassieri Si fanno i cazzi loro Ma è bellissimo No non c'è lo spreco di etichette Né niente Loro si fanno i cazzi loro Tra l'altro perché sono al telefono Eeeh Io non parlo loro Loro non parla a me Mi dice quanto devo pagare A posto E la gente non imbroglia pesare Esatto Tipo le playstation 5 Mica tanto bellissimo Spesso non ti danno attenzione Vabbè che attenzione vuoi Tu dal cassiere Scusami Gabriel Ho sbagliato Ho sbagliato Perché non notano che ti sei tagliato i capelli Gabriele la conta per la cassiera Eh per quello Per quello Lo sapevo Gabriel Q Perché parli? Cioè perché Ma ti E dai Guarda Per fortuna che È ora di chiuderla live Perché veramente Che pesante che sei Eh Pesante E vuole mangiare i cetrioli E poi dice le cose E non sa che alle 5 della mattina La gente dovrebbe dormire Dai Domani Ti asfalto Domani Wargroove Non mi interessa con chi gioco Mi concentro a massacrare te Punto a far durare la partita 8 ore E tu nei primi 15 minuti Hai perso E sei lì Questo succederà domani Non perdetevi la live dei sub Alle 3 Non c'è Guarda caso Guarda caso Non c'è Negoziante Negoziante Bo Io sono cotto ragazzi Chiudo un minuto prima Stasera Il negozio chiudo un minuto prima Ma non prima di aver ringraziato Andre Per i 42 mesi 3 anni e mezzo Volati Lei è gentilissimo Grazie Che è successo Grazie 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 Sono cotto Però Domani Ma domani Eh no Domani c'è la live dei sabato Domani mi riposo Ho detto No non è vero Perché comunque Devo ancora montare Cackle simulator E Basta Devo montare quello Però tanto è per Martedì quello dopo Che ha fatto parte Dei via verdi Allora Io stasera Vi mando appunto Dal doc Ok Ok Oh no Aspetta che non lo scrivo giusto Non so scrivere Manhattan Ok Ecco qua E gli scriviamo Gli scriviamo Doc doc Ci racconti Di quella volta Che Steven Spielberg Stava facendo il gesto Dell'ombrello a tutti Perché avevano la diarrea E lui no Grazie a Guaia Per la sub All'ultimissimo Diciamo Doc doc Ci racconti Di quella volta In cui Steven Spielberg Faceva il gesto Dell'ombrello A tutti Quelli che avevano la diarrea Così che è un po' più semplice Ci vediamo Domani mattina E Buonanotte Impegnatevi Dai All'ultimissimo All'ultimissimo